Minchia raga, ho una voglia di un hamburger che non avete idea, ma la palestra proprio mi sta dicendo no, tu non puoi. Ciao a tutti bimbi belli, bentornati sul mio canale, benvenuti invece nella prima missione per Dwayne Forge. Dopo le due riprivo X, quella scorsa abbiamo fatto una missione rapida, indolore e anche bella, dove ci ha regalato un nuovo telefonino. Oggi siamo per la prima missione per Dwayne. Amici, amici, lui è Playboy X, però dall'ultimo discorso che proprio Playboy X ci ha fatto, lo sta un po' cominciando ad avere sul culo. Usiamo un po' di francisismo ogni tanto. Like, iscrizione e campanellozza, ovviamente, e noi ci vediamo su GTA. Ci eravamo lasciati esattamente qui la scorsa missione, quindi adesso è nostro dovere andare da Dwayne Forge. Roof Rider. Che Roof non è inteso come tetto a questo giro. No, tuo padre. Chiediti perché. Ma che casa? Ma dove cazzo vive? Sto facendo le corna. Mica la vuoi uccidere, frate. Ah, uccidiamo Giovanna, ovviamente. Eh, eh. Nooo. Tanto lo farò io, quindi. Ops, spoilerino. Don't bother. Così gentile, Nico. Boh. Comunque no, non uccideremo Dwayne. Uccideremo Playboy X, ve l'ho già detto, perché c'è da prendere l'appartamento, quindi... Se ci stavate sperando... Erate già pronti lì con i commentini. Spiazza avervi deluso. Tanto passo io. Io passo e tu stai fermo. Cheat. In realtà il cheat era io parlo e tu stai zitto. Ok, ce la facciamo fino a Chinatown, che è tipo a sud della mappa, ormai l'ho imparata. È praticamente quando scendi dal ponte di Brooklyn, credo. O quello... O il ponte di Brooklyn o quello dopo. Ci sono i lavori di mezzo, che due coglioni. Frena. Non fare minchiate. Comunque ragazzi... La prima isola, ovvero Broker Brooklyn, è totalmente diversa dal Gonkin, ovvero Manhattan. Cioè, pare di stare veramente in un altro pianeta. Ok, ci siamo. E siamo esattamente qua, Chinatown, esatto. Lukey Stroke Massage. Eh, tempismo perfetto, eh. Vabbè, la fidanzata la lascio in vita. Anche perché non ho tempo. E vabbè, non freni un cazzo, non freni un cazzo, fratello, non freni un cazzo. Adesso andiamo a prendere quell'altro. Meno male ci è caduto. Sì, ma di sto passo. Facevo prima un bicicletta. Coda lì come non curva. Eh, lo sapevo. Ma quanto cazzo lo sapevo. Ma quanto... Minchia lo sapevo, ragazzi. Sì, con calma, Nico, con calma, con calma, con tutta la calma del mondo, mi raccomando. Merda. Vai, falliremo la missione. Sìììì. Fate, credo che anche lui stia cercando noi, quindi non si allontanerà più di tanto. Eccolo, eccolo. Anche perché c'è una gomma bucata, quindi Dai, rialzati Non muore Oh, finalmente Quanti sono i soldi? Non si sa Vabbè, so solo che una parte ce la darà per forza Minchia Un assassino Parfait, parfait Qua la prendiamo contro mano, tanto Tutti Everybody left the game Tutti scesi dalla macchina e scappati a gambe levate E poi in realtà non siamo neanche tanto lontani da dove abbiamo iniziato Era questo il posto? No, non era questo No, non è neanche Shana Town questa, cazzo dico Comunque Clacking bell è questo qui Ci incontriamo con Dwayne Che dovrebbe essere dentro per forza Esattamente così Ci mangiamo anche un panino Prima il panino Minchia raga, ho una voglia di un hamburger Che non avete idea, ma la palestra proprio mi sta dicendo No Tu non puoi Ok Ok Giusto Giusto Meriti di essere lasciato mia vita comunque Ok Tipo abbiamo mangiato Clacking bell ancora prima Che lo sbloccassimo Numero 1 Pepperoni Luccatoni Numero 1 Ok ragazzi Io con questa vi lascio Michelle Michelle Ok United Liberty Paper Altre missioni in arrivo Tanto dobbiamo ancora fare Osta Negotation Che non si è fatta viva Intanto ragazzi Grazie della visione Lasciate un like al video Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo Con la prossima missione Che sarà ancora per Dwayne Incredibile Sarà la seconda su due Due per Playboy X Due per Dwayne E poi vedremo come andrà a finire Comunque ragazzi Grazie di tutto Alla prossima Bacione Like Iscrizione e campanella Come sempre Queste cose non cambiano mai Che sarà ancora per Dwayne Che sarà ancora per Dwayne